ciao ragazze bentornate in questo nuovo video oggi voglio mostrarvi come realizzare queste stupende onde super definite per capelli ma prima di tutto se il look vi piace vi ricordo di aiutarmi supportarmi mettendo un like al video scrivendomi un commentino e iscrivendovi al canale se ancora non l'avete fatto inoltre sono attiva anche su instagram dove mi trovate come rossi makeup iniziamo subito come primo step pettino i capelli a questo punto divido i capelli in due sezioni usando una molletta per realizzare le onde uso questa piastra barra ferro è una piastra per capelli che è molto molto carina l'ho acquistata qualche mese fa perché vi dà la possibilità di realizzare due tipi diversi di onde una super definita come questa qui è un'onda più morbida stile capelli post treccia post treccia quindi dopo la treccia però io uso questa super definita prendo quindi una ciocca inserisco il ferro lascio agire qualche secondo in base anche a quanto i vostri capelli sono più o meno ricci e successivamente procedo per tutta la lunghezza mi raccomando il ferro deve essere messo proprio dove c'è l'onda dove finisce l'onda altrimenti non verrà bene proprio come vedete in questo video e come quarto step passo un po' di lacca spruzzo un po' di lacca che è super fondamentale per dare quell'effetto lucido ancora più definito e ovviamente per far sì che la piega regga fino a sera ma vi dirò un altro segreto con questo look vi assicuro che fino alla volta allo shampoo successivo avrete i capelli così mossi magari non come il primo giorno però sempre bellissimi e ve lo dice una che i capelli super lisci e a cui boccoli non durano neanche mezza giornata vi assicuro che in questo modo con questo metodo i capelli ricci diciamo così vi dureranno fino al prossimo shampoo provate quindi procedo sulle altre ciocche e quindi prima da una parte e poi dall'altra a questo punto che ho fatto tutta la parte inferiore spruzzo un bel po di lacca questo è il primo risultato e ricordatevi che se nella parte inferiore potete tenere il ferro meno secondi perché anche se il risultato è un po' meno definito tanto non si vedrà moltissimo non fa niente per quanto riguarda poi la parte superiore dovremo stare molto più attente essere molto più precise e tenere il ferro un po più a lungo in modo che il risultato sia più bello proprio lì dove si vede quindi sciolgo la parte superiore e lascio diciamo ancora con la molletta una piccola parte superiore come avete visto e procedo con lo stesso procedimento ciao ciao ecco qui sciolgo l'ultima parte il ciuffo e qui devo essere super precisa perché è la parte quella che si vede più di tutti che attira prima di tutte l'occhio e quindi procedo sempre ciocca per ciocca ricordatevi ovviamente che più le ciocche sono piccole più il risultato sarà bello e definito più le ciocche sono grosse più il risultato sarà magari un mosso più morbido ed ecco qui che procedo quindi con le ultime ciocche e alla fine col ciuffo mi raccomando fatemi sapere in un commentino cosa ne pensate e se vi piace questo metodo provatelo perché anche se siete super lisce liscissime vi assicuro che la piega vi durerà fino all'ultimo giorno quando dovrete lavare i capelli perché saranno poi ormai troppo sporti al massimo potete riprendere sempre col ferro qualche altra ciocca e questo è il risultato finale alla prossima ciao 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 ciao